Non voglio parlare della partita, voglio solo dire due parole e poi vado via. Giovedì siamo usciti dalla Coppa per colpa di una terna arbitrale a dir poco scandalosa. Quello di oggi non lo voglio neanche commentare perché le immagini parlano da sole. Chiaramente non ce l'ho contro il Molfetta che ha fatto la sua partita ed è anche un'ottima squadra. Però quello che è successo oggi è vergognoso ed è sotto gli occhi di tutti. Ci mancano due rigori, un'espulsione inesistente, un rigore controdubbio. È stata una direzione di gara alquanto scandalosa. Siccome stiamo lottando per i primi posti e comunque la gente sa i sacrifici che si fanno e non sulle economici adesso è il momento in cui chiediamo delle risposte perché andare avanti così non ha senso. Oggi è stata una cosa veramente vergognosa quindi anche parlare della partita per me non ha senso. Francamente non ho visto questa direzione arbitrale così. Il rigore a me è sembrata che ci fosse la mano alta quindi alla fine ci può stare. Io ho visto una partita che invece noi abbiamo avuto 4-5 occasioni a gol nitide con Sansona che fa il portiere che ha fatto il fenomeno e su un rimpallo il Barletta pareggiato. Addirittura alla fine stava anche provando, ha avuto un'occasione per poter vincere ma la partita l'abbiamo comandata noi per 90 minuti e alla fine per un episodio. è un periodo che gira così, purtroppo gira così, la squadra sta giocando bene, avrebbe meritato di essere in una posizione completamente diversa. Il Barletta è un'ottima squadra come ho sempre detto ma noi abbiamo messo sotto un'ottima squadra, abbiamo sicuramente meritato di vincere poi il calcio è così, su un episodio, su una deviazione hanno pareggiato. Io non ricordo un'altra parata del nostro portiere, forse sì, qualche azione pericolosa ma il nostro portiere non ha fatto nulla. Quindi vedere una partita in cui il Barletta è incommentabile, io lo ritengo una cosa, vabbè, poi rispetto il pensiero di tutti però credo che sia veramente difficile vederla in questa maniera la partita.